A Roma, a Roma ormai si sono abituati, si sono vaccinati rispetto a quelli della decrescita felice, rifiuti zero, vi ricordate quando saltavano in piazza, quando rifiuti zero, hanno fatto della capitale d'Italia una discarica, c'è da vergognarsi, c'è da vergognarsi, ma non possiamo consentirci il russo di avere Napoli, l'area interna, Caserta, comuni di 100.000 abitanti con i rifiuti in mezzo alle strade e questo sarebbe un disastro di proporzione inimmaginabile, perché sarebbe la conferma di una condizione storica che viene da lontano e che diventa irrisorbibile, questo è il danno in più che avremo in Campania. Sono cari ragazzi, occupare i social o inondare per anni di fake news costano, ma i problemi non li risolvono. Qualche mese fa è venuto a fare la campagna elettorale anziché andare a lavorare a un ministero, il mio amico affettoso Salvini è venuto a crocifisso fare il rosario, che si è fatto a croce, gli ho fatto sapere che noi qui la croce ce la facciamo ogni mattina, non sono noi con la mano di vista e con la mano di testa e che ci fa male la testa da quando ci alziamo la mattina, diversamente che a lui, ci fa male la testa e palle non le vogliamo sentire.